C'era una volta un signore che si chiamava Leonard Parker. Possedeva un ristorante di lusso, guidava un'automobile di lusso e abitava in una casa molto di lusso. Poi successe che un giorno, come tutti gli altri, il presidente lo pescò... Lei ci serve, Leonard. ...perché salvassi il mondo un'altra volta. Ma non ho niente da mettermi. Avanti, Leonard, tiri sulle braccia. Ma può un uomo qualunque armato solo di una normale Porsche da combattimento... ...neutralizzare un missile e una chiromante straniera e salvare il genere umano? E alle otto presentarsi alla cena prenotata? È tutto quello che c'è per cena, Leonard. Niente caffè. Bill Cosby... ...in Leonard salverà il mondo. Un'avventura brillante. Prendetelo. ...